Oltre ovviamente a garantire tutto il sostegno all'Ucraina contro la guerra di aggressione mossa da parte della Russia, noi vogliamo lavorare con la presidenza giapponese su alcune priorità che io ho pienamente condivise, proposte dal Giappone. Ovviamente la tutela dell'ordine internazionale basato sulle regole, il rilancio e l'approfondimento dei paesi del cosiddetto sud globale, avete visto quanta attenzione l'Italia stia rivolgendo ad esempio nei confronti del continente africano, il rafforzamento della sicurezza economica, delle catene di approvvigionamento, la lotta ai cambiamenti climatici, la transizione energetica, ovviamente molte sono le sfide, sono tutte sfide sulle quali c'è molto lavoro da fare da parte di tutti. Ovviamente noi approfondiremo ulteriormente tutte queste materie a colazione, ovviamente le questioni legate alla politica internazionale partendo dalle conseguenze della guerra contro l'Ucraina e abbiamo parlato e continueremo a parlare anche di stabilità e di prosperità dell'Indo-Pacifico, credo che sia una regione fondamentale per il nostro futuro, è un'area sempre più strategica ma anche una macro regione con importanti nodi da risolvere tra cui penso e abbiamo parlato del programma missilistico e nucleare nordcoreano che continua a destare forte preoccupazione.